Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti a questo consiglio comunale che ha per me un significato speciale. Questa sera ci siamo riuniti qui perché sento il dovere di esprimere i miei salute e il mio ringraziamento alla popolazione, perché grazie al vostro supporto e alla vostra fiducia che ho avuto l'onore di servire questo paese, Ozzegni. Come molti di voi sapranno sono stato recentemente eletto consigliere regionale, purtroppo esiste una norma di incompatibilità, questa incompatibilità prevede che non si può esercitare il ruolo da sindaco e da consigliere regionale, pertanto bisognava arrivare a una scelta. Voglio anche però precisare che prima della mia candidatura mi ero accertato anche con il segretario comunale che comunque si poteva evitare la questione del commissariamento, facendo proseguire il consiglio così come senza del sindaco dove fa le veci il vice sindaco con le funzioni del sindaco e quindi nulla cambiava per il consiglio comunale. Ecco perché poi ho deciso di accettare la candidatura. A questo punto approfitto anche di ringraziarvi per avermi supportato durante la mia campagna elettorale perché senza il vostro sostegno sicuramente non sarebbe arrivato il successo che è arrivato, che direi anche un ottimo successo inaspettato per tanti. Quindi grazie anche per questo vostro supporto per la mia campagna elettorale. Adesso a questo punto inizieremo il consiglio comunale dove io farò parte per il primo punto dell'ordine del giorno, dopodiché lascerò al vice sindaco di condurre il proseguimento del consiglio e io verrò a sedermi lì con voi e assisto il consiglio come voi. Grazie per essere qua e dopo farò i miei ringraziamenti a tutta la popolazione ufficiale. Grazie ancora. Procediamo per il consiglio comunale. dottore fai l'appello sindaco Bartoli presenta pozzo federico graziano giovanni agostino germano bruno tarabolino riccardo scalese gianfranco cortese amanda coco andrea gallo lasserelara assente allora agostini monica allora uno due tre quattro cinque sei sette otto nove presenti e un assente bene il primo punto dell'ordine del giorno è approvazione verbale seduta precedente verbali verbali seduta precedente c'era verbali dal 31 al numero 33 precisamente il verbale numero 31 recava ad oggetto approvazioni verbali della seduta precedente il verbale numero 32 approvazione del regolamento della commissione consultiva comunale per l'agricoltura che è stato rinviato in quella sede poi c'era il verbale numero 33 che era l'avvio procedimento di contestazione della causa di incompatibilità al sindaco a seguito della proclamazione a consigliere del consiglio regionale del piemonte ai sensi del decreto legislativo 18 8 2000 numero 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali articolo 69 favorevoli favorevoli grazie 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 Bene, procedo con il ringraziamento e il saluto ufficiale. Cari consiglieri, e con profonda gratitudine e con un pizzico di commozione che mi rivolgo a voi oggi per esprimere i miei più sentiti ringraziamenti e formulare i doverosi saluti istituzionali, in tutti questi anni trascorsi insieme abbiamo lavorato fianco a fianco per il bene del nostro amato Paese, O Zegno. Sono immensamente grato per la collaborazione e il supporto che ciascuno di voi ha dimostrato. Riflettendo sul nostro percorso mi rendo conto che sebbene posso aver commesso qualche inevitabile errore, ogni mia azione è sempre stata mosso dalla buona fede e dal desiderio di migliorare la vita della nostra comunità. Ringrazio di cuore la Giunta e i membri del Consiglio Comunale, la cui dedizione e l'impegno sono state fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi comuni. A tutti i dipendenti comunali, nonostante le sfide legate alla carenza di personale e alla complessità burocratica, hanno sempre risposto con professionalità e dedizione. Il loro lavoro istancabile, spesso anche oltre allo stretto dovere istituzionale, ha garantito un buon funzionamento della nostra amministrazione e la sicurezza della nostra comunità. Un grazie particolare alla geometra Cristina Filippone, la cui professionalità mi ha guidato nella gestione di delicati e importanti compiti che richiedevano specifiche competenze. Grazie al suo prezioso aiuto sono riuscito a svolgere il ruolo di responsabile dell'ufficio tecnico in maniera professionale ed efficiente. Daniela Geranio, quale responsabile dell'ufficio ragioneria, ha dimostrato un'uguagliabile precisione e affidabilità. La sua attenzione ai dettagli e la sua competenza finanziaria hanno garantito una gestione trasparente ed efficiente nelle risorse economiche del nostro comune. Deborah Bonatto, quale addetta dell'ufficio demografico, con la sua disponibilità e competenza ha fornito un servizio imbeccabile. Grazie alla sua dedizione la nostra comunità ha potuto beneficiare di un'assistenza puntuale e accurata nelle pratiche anagrafiche e demografiche. Alberto Paglia, quale agente di polizia municipale, ha svolto il suo ruolo con grande professionalità e impegno. La sua presenza costante e il suo intervento tempestivo hanno contribuito a mantenere l'ordine e la sicurezza nella nostra comunità. Claudio Giacoma Rosa, quale addetto come operatore tecnico specializzato, ha dimostrato un'eccezionale dedizione, grazie al suo lavoro istancabile e dimostrandosi sempre disponibile a curare le nostre strade e il nostro territorio, mantenendole sempre in ottime condizioni e garantendole la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. Un ringraziamento va anche alle precedenti dipendenti, Zucco Lidia, quale addetta alla segreteria, e Pistono Annarita, precedentemente addetta ai servizi demografici. Zucco Lidia, nel suo ruolo di addetto alla segreteria, ha fornito un supporto amministrativo essenziale, la sua efficienza ha reso le operazioni quotidiane dell'amministrazione comunale più fluide e organizzate. Pistono Annarita ha lasciato un segno intelebile nel suo ruolo di addetta ai servizi demografici. La sua competenza e il suo impegno hanno garantito un servizio eccellente alla nostra comunità, facilitante le pratiche demografiche con grande professionalità. Le associazioni di Ozzegna, quale la Proloco, la Banda Musicale su Carenzo, le Maggiorette, Gli Alpini, il Gruppo Anziani, il Calciobalilla, l'Associazione Canopa, l'APS, Cresciamo Insieme, Arte e Fantasia, Coltivatori Diretti e Donne Rurale, Fidas, il Gavasu, la Società Agricola Operale di Mutuo Soccorso, con la quale abbiamo avviato importanti servizi per i nostri cittadini. Tutti questi meritano un ringraziamento speciale. Il contributo di tutte queste associazioni hanno arricchite la nostra comunità, permettendo la realizzazione di numerosi eventi e iniziativi che hanno rafforzato il tessuto sociale e culturale di Ozzegna. Non posso dimenticare l'associazione AIB, rappresentata dal suo presidente Bruno Germano, che ha sempre risposto prontamente a ogni emergenza. Un particolare ringraziamento va alle forze dell'ordine, in particolare alla stazione carabiniera di Aglie, nella persona del comandante luogatenente Angelo Pilia. Un grazie speciale anche alla dirigente dell'Istituto Scolastico di San Giorgio Canavese e a tutto il personale, nonché alle insegnanti della nostra scuola materna e primaria, per il rapporto straordinario che abbiamo coltivato, per le numerose iniziative realizzate insieme e per il lavoro costante, impegno e dedizione. Nel corso del mio mandato, l'amministrazione comunale ha affrontato insieme sfide importanti e realizzato opere significative. L'acquisto del castello e la demolizione del rudere fatiscente nel nostro meraviglioso ricetto sono solo alcuni esempi dei risultati ottenuti. L'aggiunta, supportata dall'intero consiglio, ha sempre dimostrato un grande spirito di squadra, permettendo di raggiungere traguardi ambiziosi e di ricevere prestigiosi elogi. Desidero ringraziare in modo particolare il segretario comunale, dottor Umberto Bovenzi, per il suo prezioso supporto giuridico e per aver garantito che le nostre funzioni istituzionali si svolgessero sempre in modo corretto. Un ringraziamento speciale va al vice sindaco Federico Pozzo, il cui sostegno è stato inestimabile in ogni circostanza, e all'assessore Giovanni Agostino Graziale per il costante impegno. Il mio saluto al consiglio comunale e a tutta la popolazione non vuole essere un addio, ma un arrivederci. Continuo naturalmente a sentirmi parte di questa comunità e rimarrò sempre disponibile per qualsiasi evenienza. Mi terrò aggiornato sull'andamento della vita del nostro paese e continuerò. e continuerò a coltivare stretti rapporti con il consiglio e con i dipendenti comunali. pur nel rammarico di lasciare la carica di Silvio... Scusate... Scusate... Pur nel rammarico di lasciare la carica di sindaco, la mia scelta di intraprendere il ruolo di consigliere regionale è stata motivata dalla volontà di impegnarmi con cuore e passione per il nostro territorio, affinché possano prosperare sia Ozzegna che tutto il Canevese dell'intero Piemonte. Sono consapevole che la mia esperienza amministrativa e sociale deve molto agli ozzegnesi, in particolare ai miei predecessori sindaci come Enzo Francone, Ivo Chiarabaglio e Claudio Nepotefus e tutti gli ex amministratori, dai quali ho imparato tanto e verso cui nutro profonda gratitudine. Concludo esprimendo un profondo riconoscimento e il mio più sentito ringraziamento a tutto il consiglio comunale e all'intera comunità di Ozzegna. La loro vicinanza e il diffuso impegno hanno rappresentato i pilastri fondamentali durante il mio mandato. Il mio impegno continuerà ad essere teso, a contribuire al benessere e allo sviluppo della nostra comunità ozzegnese. Auguro al Vice Sindaco Federico Pozzo, che ora assumerà la responsabilità di Sindaco, un'efficace gestione in questo ruolo cruciale. Egli sa che potrà contare pienamente sul mio costante sostegno e in ogni momento e circostanza. Lo stesso auguri all'assessore Giovanni Agostino Graziani e a tutto il consiglio comunale, auspicando ulteriori brillanti risultati nel loro importante compito, con la certezza che Ozzegna proseguirà sulle vie della crescita e della prosperità sotto la loro guida. Scusatemi se malo a malauguratamente avessi dimenticato qualche ringraziamento. Prego tutti di comprendere la mia profonda emozione in questi momenti. A tutti i consigli, a tutti gli ozzegnesi, un grazie di vero cuore a tutti. Grazie. Applausi. 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 Prima che il sindaco ci lasci qua dal tavolo da soli, volevamo consegnare a nome di tutto il consiglio comunale, quindi di tutti i consiglieri, un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni, ma tanto sapremo che non finirà qui, quindi è solo un grande inizio. Applausi. 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 cari ozzegnesi è con grande onore e profondo senso di responsabilità che mi rivolgo a voi oggi come sapete ho avuto il privilegio di essere eletto consigliere comunale del comune di ozzegna all'età di 18 anni questo incarico ha rappresentato per me una straordinaria opportunità di crescita personale e politica permettendomi di servire la nostra comunità con dedizione e impegno nel 2021 ho avuto l'ulteriore privilegio di essere nominato vice sindaco del comune di ozzegna grazie alla fiducia che il nostro primo cittadino ha riposto in me e grazie alla fiducia di tante persone che hanno deciso di sostenermi ho svolto questo ruolo con passione e impegno sotto la guida illuminata del nostro caro sergio bartoli grazie alla sua leadership e al suo esempio il nostro comune ha conosciuto significativi progressi e sviluppi diventando un luogo sempre più accogliente e prospero per tutti i cittadini oggi con profondo orgoglio annuncio che sergio bartoli è stato consigliere regionale del piemonte questa nuova sfida testimonia la fiducia e il rispetto che la comunità piemontese nutre nei suoi confronti la sua elezione a questo prestigioso incarico rappresenta un riconoscimento del suo impegno instancabile e dalla sua visione lungimirante con l'insediamento di sergio bartoli nel consiglio regionale mi trovo a dover assumere le sue funzioni e responsabilità come sindaco di ozzegna per me è un onore poter rappresentare e lavorare per il mio paese nativo questo compito mi riempie di emozione e mi spinge a dare il massimo per il bene comune mi impegno a proseguire il lavoro iniziato portando avanti in condeterminazione costanza i progetti e le iniziative che hanno reso il nostro comune un modello di efficienza e solidarietà sono pronto a lavorare con umiltà responsabilità disponibilità e trasparenza insieme ai componenti del consiglio comunale per tutti i cittadini di ozzegna la nostra comunità merita un'amministrazione che si avvicina ai bisogni della gente che ascolti con attenzione e risponda con soluzioni concrete ed efficaci intendiamo proseguire un dialogo continuo con voi carici concittadini perché solo attraverso la collaborazione la partecipazione attiva possiamo costruire un futuro migliore per tutti il bene comune lo sviluppo della nostra amata ozzegna sono e saranno sempre la mia la mia priorità e quella della squadra che mi onoro di rappresentare mi adopererò affinché ogni decisione presa sia orientata al migliorimento della qualità della vita dei nostri cittadini alla tutela dell'ambiente e alla promozione di una crescita sostenibile e inclusiva continuerò a lavorare su progetti già avviati in questi anni e su tanti altri che faranno crescere il nostro territorio rendendolo sempre più vivibile e prospero desidero rassicurare tutti i cittadini di ozzegna i funzionari comunali e l'intero consiglio comunale che troveranno in me un amministratore sempre pronto ad ascoltare le loro esigenze mi impegno a fare tutto il possibile per soddisfare le loro necessità lavorando con dedizione e trasparenza per il bene di tutti infine desidero esprimere un sentito ringraziamento alla mia famiglia e alla mia compagna Ilaria per il supporto e la pazienza dimostrata in tutti questi anni senza il loro sostegno costante non sarei riuscito a raggiungere questi importanti traguardi ringrazio tutti voi per la fiducia accordatami e per il sostegno che sono certo non mancherete di offrirmi questo nuovo percorso insieme possiamo continuare a fare di ozzegna un luogo dove ciascuno si senta valorizzato e parte integrante di una comunità coesa e solidale grazie di cuore a tutti per il bene di ozzegna andiamo avanti e di tutte le persone che la amano mi faccio portavoce dei dipendenti del comune di ozzegna perché unitamente e pubblicamente vogliamo esprimerti il nostro più sincero ed affettuoso augurio per le tue funzioni istituzionali a consigliere regionale che ti sono state attribuite noi lasciamo i ringraziamenti e i giudizi del tuo operato da sindaco ai tuoi cittadini e al tuo gruppo consigliare perché noi ne siamo parte attiva e come per i tuoi predecessori siamo semplicemente esecutori delle vostre scelte amministrative la nostra intenzione è raccontare l'uomo che sei tenace capace propositivo e che con umiltà e umanità sostieni ed aiuti chiunque facendoti carico anche dei più piccoli dei problemi ti ringraziamo per aver condiviso con noi come amico le tue emozioni e i tuoi stati d'animo soprattutto in quest'ultimo importante periodo in cui sei stato impegnato con la tua candidatura da prima un po sconcertati quando ci hai comunicato l'idea di candidarti in regione ci siamo trasformati in quelli che ti rassicuravano e ti facevano forza negli attimi di smarrimento siamo stati tra i tuoi primi sostenitori e siamo stati portavoce della tua voglia di fare ti abbiamo supportato e alcune volte sopportato ma tu hai saputo arricchirci con la gioia della vittoria perché 3.000 persone che ripongono in te la fiducia è senza dubbio successo vederti raggiungere i livelli regionali e vedere la tua forza e la tua determinazione che da sempre ti contraddistinguono ci ha emozionato chi ti ha sostenuto ha scelto di affidare a te la rappresentanza e la sicurezza che ogni giorno tu sei per ogni singolo cittadino non vogliamo dilungarci troppo altrimenti dovremmo parlare anche dei tuoi difetti ma sai tutti li abbiamo quindi ti rivolgiamo i nostri personali complimenti per il risultato che hai raggiunto e ti chiediamo di rimanere l'uomo umile testardo sempre pronto ad aiutare tutti e con la tua contagiosa voglia di fare che durante questi anni ti ha contraddistinto e ti ha fatto ottenere una così grande fiducia nella popolazione piemontese buon lavoro consigliere regionale Sergio Bartoli allora noi del gruppo anziani tutti i membri del direttivo con grande piacere hanno voluto fare questo piccolo omaggio a te Sergio io lo leggo Sergio da tutti noi un profondo ringraziamento per l'aiuto e le grandi disponibilità ricevuti in questi anni e il miglior augurio per un futuro ricco di soddisfazioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti